Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net Pensiamo che sia giusto che durante le trasmissioni ci sia un bollino in modo che tutti sappiano se la trasmissione è pagata totalmente dal canone o dalla pubblicità in modo che i cittadini che sono i principali azionisti della RAI sappiano esattamente come vengono spesi i loro soldi. Come tutti gli anni accade la RAI mette in atto questa pratica di sollecitazione del canone in particolar modo del canone speciale che sappiamo dovuto solo da una particolarissima tipologia di utenza che però non viene specificata nel momento in cui la RAI indistintamente sollecita le imprese a corrispondere il canone. Prima di tutto il rispetto dello statuto del contribuente in quanto le missive della RAI sono minacciose e ledono, come ha già sottolineato l'autorità per la privacy, ledono i diritti dei contribuenti e soprattutto che la RAI specifichi quali sono questi apparecchi come gli è stato indicato dal Ministero delle Attività Produttive e inoltre ho anche chiesto, e qui chiudo, di capire come l'utente che indotto erroneamente a pagare il canone RAI come può rientrare di ciò che non doveva versare in quanto la RAI dà per scontato che quella cifra è dovuta e non ci sono modalità per il rientro perché non possiamo continuare a pagare tutti come cittadini un balzello simile quando oltre a non ricevere un giusto ritorno in termini di servizio moltissimi di quei soldi se ne vanno per pagare manager, dirigenti ma anche dei stessi attori, basti pensare allo spreco di denaro pubblico che tra pochi mesi vedremo a Sanremo in cui avremo dei comici, prendere milioni, milioni di euro e al contempo a guardare quei comici saranno dei disperati che non arrivano nemmeno a fine della settimana, non del mese. Ovvero i cittadini pagano per un vero sperpero di soldi pubblici quindi noi inizialmente chiediamo abolizione del canone RAI e in secondo luogo chiediamo che gli stipendi dei dipendenti, dei dirigenti della RAI siano equiparati ad un massimo al presidente della Corte di Cassazione che equivale a più di 300 mila euro all'anno noi riteniamo che 300 mila euro all'anno siano più che decorosi e quindi non capisco perché non si possa dare altrettanto di stipendio ai giornalisti della RAI Informati bene Scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net